Lavorare, lavorare e ancora lavorare per realizzare un sogno che la città aspetta e merita. Con queste parole Emilio Longo, neotecnico della Cavese Targata Campitiello, si è presentato al suo nuovo pubblico nel corso della conferenza stampa tenutasi lunedì alla Mediateca Marte. Una lunga chiacchierata e una valanga di domande per l'allenatore ex Livorno che ha delineato il profilo di quella che sarà la sua Cavese, che giocherà col 4-3-3 e sarà, parole di Longo, aggressiva, equilibrata ed affamata di vittoria. Sarà una Cavese aggressiva, una Cavese che avrà voglia di vincere, tenterà di vincere ogni domenica, di farsi rispettare sia sotto l'aspetto tecnico-tattico sia sotto l'aspetto motivazionale. Sarà una squadra guerrita, una squadra che avrà voglia di primeggiare, una squadra che sa benissimo l'importanza dei colori che indossa e quindi ha anche la responsabilità di una Cavese finalmente rinfrancata anche sotto l'aspetto societario. Sarà una Cavese affamata assolutamente. Invece qual è il profilo tecnico-tattico di Emilio Longo? Quale sarà la sua impronta? Io tendenzialmente cercherò di schierare la squadra con un 1-4-3-3 propositivo, una squadra offensiva, una squadra che cercherà, mi ripeterò, di vincere, di sopraffare l'avversario facendo un gol in più. Cercherò di dare alla squadra un equilibrio nelle due fasi di gioco, ma soprattutto cercherò di dare un'impronta mentale, un'impronta di una squadra che non saprà sempre superare qualsiasi ostacolo per rapporto sulla propria strada. Ha parlato di lavoro e di gioco spettacolare. Quali saranno i primi obiettivi che si pone? Ma assolutamente prima il lavoro verrà. Per raggiungere un gioco spettacolare dovremo assolutamente aspettare, cercare di indottrinare bene la squadra. E quindi attraverso il lavoro sicuramente ci sarà la possibilità di vedere una squadra che saprà cosa fare quando va in campo. Io mi auguro che la squadra possa trarre dai lavori che faremo la capacità di fare scelte utili nel minor tempo possibile. Quindi è una squadra che sappia il fatto suo sotto tutte e due le fasi di gioco, sia quando dovrà difendere sia quando dovrà attaccare. Quindi io credo che sia spettacolare anche una rincorsa per un recupero palla, dopo un attaccante ha perso palla dovrà rincorrere la palla per non mettere in difficoltà i compagni di squadra. Io mi spettacolare, nutro tutto, vedo tutto, c'è anche, ripeto, una corsa per il compagno di squadra. Dovremo essere squadra, ma squadra nel vero senso della parola, gruppo, non dovranno essere parole abusate, giusto per dirlo. Ma dovremmo veramente subito cimentarci a diventare squadra e a cercare di regalare a questa tifoseria quando è più soddisfazione possibile. Un lungo applauso per la sua battuta di chiusura, ha parlato di grandi uomini e di grande maglia. Penso che non abbia detto assolutamente niente di così in tanto irrealizzabile. Io sto cercando, ogni calciatore che sta venendo qui a Cava dei Tirreni, assolutamente sono tutti calciatori di grandissimo profilo. Sia sotto l'aspetto umano, sia sotto l'aspetto professionale. La maglia che indossano palla da solo, voglio dire, non sarà importantissimo che loro saranno uomini in tutti i punti di vista e che potranno testimoniare con i fatti, con la corsa, con la volontà, con la benegazione, quanto sia importante vestire la maglia della Cava dei Tirreni. Nella sua avventura a Cava dei Tirreni, il lungo farà affidamento su uno staff altamente qualificato, composto dal vice Giuseppe D'Angelo, dal videoanalista Michele Aquino, il preparatore atletico Antonello De Luca e quello dei portieri Valerio Visconti. Adesso siamo in fase di progettazione del ritiro precampionato e adesso siamo alle prese con la strutturazione degli allenamenti, aspettando il primo giorno di scuola. Il profilo ideale per la cavese è quello del portiere, è quello che deve essere un portiere già di provata esperienza, anche se è under, quindi stiamo cercando un profilo che abbia già qualche presenza in qualche campionato importante. Adesso sta la società insieme al mister e insieme a me, stiamo vagliando un po' alcuni profili e adesso penso che nei prossimi giorni si chiuderà qualche cosa di buono. Nomi di preciso preferisco non farli, però posso dire che siamo supportieri che hanno delle presenze sia in Lega Pro o in Serie D. Questo sì, questi sono i profili. Nel corso della serata si è parlato inoltre dell'immediato futuro, dell'imminente ritiro previsto a Bracigliano dal 4 al 14 agosto, della composizione della Rosa e delle novità di mercato. Intanto continuano a susseguirsi novità dalla frenetica campagna acquisti, ufficializzati in mattinata agli ingaggi che andranno a rinforzare il reparto arretrato della Rosa Bianco Blu. Hanno firmato infatti Pasquale Sposito, classe 81, difensore ex Monopoli, con 5 gol in 29 presenze. Pietro Sicignano, difensore ex Potenza, classe 88. Francesco Franco, giovane promessa del Grottaglie. In difesa anche Benito Cicerelli, terzino destro, classe 96, in forze al Taranto nella scorsa stagione. Nuovi innesti infine anche in attacco. L'ultimo arrivato è Giovanni Bongermino, under classe 95, che lo scorso anno si è distinto a Grottaglie con 6 gol messi a segno.